Istat al 31 dicembre 2014 risiedono in Italia 60.795.612 persone Istat al 31 dicembre 2015 risiedono in Italia 60.665.551 persone Istat 1 gennaio 2017 60.579.000 residenti Istat 1 gennaio 2018 Si stima che la popolazione a Monti ha 60.494.000 residenti Censis al 1 gennaio 2019 la popolazione italiana è pari a 60.359.546 residenti Istat al 1 gennaio 2020 dati provvisori la popolazione residente in Italia è pari a 60.244.639 unità Istat la popolazione censita in Italia il 31 dicembre 2021 ammonta a 59.030.133 residenti Istat al 1 gennaio 2022 in Italia risiedono 58.983.122 persone Scusate tanto Scusate tanto ma abbiamo appena letto che il 31 dicembre 2021 il dato della popolazione era pari a 59.030.133 residenti e al 1 gennaio 2022 risiedono 58.983.122 persone Capodanno è pericoloso non credete ma andiamo avanti Istat la popolazione residente in Italia il 1 gennaio 2023 è 58.851.000 unità quello che segue una piccola parte del video pubblicato il 22 novembre 2018 sulle previsioni Deagel pagina ovviamente sparita dal web ma presente su indice alfabetico Qui sono riferiti all'anno 2017 Abitanti 62 milioni Previsione per il 2025 44 milioni 44 milioni? Ma dove saranno finiti i 18 milioni mancanti? Noi? I nostri figli? I vostri nipoti? I più curiosi le più curiose delle ricercatrici avrete visto e analizzato il video Mappa Mercatore Polo Nord Descrizione storica o il video Mercatore e il Polo Nord dove vengono presentate diverse mappe con le quattro isole al Polo Nord 3 nel quale si evince che c'è un'area enorme dove non vola nessun aereo e che sicuramente rimane nascosta ai normali viaggiatori Ebbene ecco un'ultima mappa stilata da Ferdinand Ferbist stilata nel 1674 che è stato un gesuita, missionario e astronomo fiammingo ha svolto l'attività missionaria in Cina durante la dinastia King Sulla pagina in italiano non c'è tutto quello che si può vedere sulla pagina in lingua inglese dove si legge anche che nel 1672 ha realizzato la prima macchina a vapore Ma quello che desidero mostrarvi è che anche in questa mappa si vede il Polo Nord completamente diverso da quello che ci mostrano oggi Qui a destra si legge Questa è la terra più settentrionale il sole splende qui per metà dell'anno e durante l'altra metà c'è solo oscurità Per compensare la mancanza di luce le persone bruciano olio di pesce nelle lampade L'inverno è miserabile quindi pochi piaggiano qui Pertanto non si sa molto degli abitanti Mentre a sinistra si legge Le acque di questo mare settentrionale sono turbolente tanto che in inverno qui non si può formare ghiaccio Interessante, non trovate? Lascio il link della mappa interattiva in descrizione per chi ama svolgere ulteriori ricerche Buone cose a tutti e tutte